questo termine si riferisce all'arte prodotta in boemia in un periodo di particolare vitalità culturale associata alla vita di carlo iv che fu re di boemia dal 1346 e imperatore del sacro romano impero dal 1355 dalla francia e dall'italia furono importati manoscritti che ispirarono una scuola locale di miniatura ma i risultati più importanti della scuola di boemia furono raggiunti nella pittura su tavola e nell'affresco sotto il figlio di carlo venceslao la pittura e in particolare la miniatura continuarono a essere coltivate ma l'importanza di questa scuola cominciò a scemare gli artisti di questa scuola sono per lo più anonimi e di nazionalità incerta essi fusero tra loro diverse influenze e contribuirono alla definizione dello stile gotico internazionale poco dopo la metà del 300 le opere del maestro di vis brod erano di gusto fortemente italiano sembra che si sia ispirato soprattutto alla pittura senese successivamente con il maestro di trebon che lavorò durante gli ultimi decenni del secolo l'influenza francese si fece più forte la scuola di boemia fu attiva dalla seconda metà del quattordicesimo secolo fino all'inizio del quindicesimo secolo quando molti lavori andarono distrutti durante la guerra contro gli ussiti membri di un movimento cristiano riformatore e rivoluzionario centro di diffusione di questa scuola è la boemia una regione che oggi si trova nella repubblica cieca praga fu il centro propulsore con la sua università attorno alla quale si raccolsero studiosi e artisti provenienti da ogni parte d'europa la scuola di boemia non fu un movimento cosciente di sé oggi definiamo così un gruppo di opere e di artisti che si trovarono a produrre la propria arte grazie al mecenatismo e alla fioritura culturale promossa da due sovrani illuminati in una splendida regione al centro dell'europa se il video ti è piaciuto metti un bel like lasciami un commento condividilo con i tuoi amici ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video ciao